In attesa che il Consorzio ASI consegna all'ente provincia regionale di Agrigento i locali del CAP, centro di addestramento professionale, struttura da dibire a sede dell'IPA Fermi, il Presidente della provincia Eugenio Dorsi e l'assessore provinciale all'edilizia Piero Marchetta propongono il piano provvisorio di dislocazione nelle 23 aule da destinare esclusivamente ad indirizzo delle attività didattiche dell'Istituto professionale diretto da Professor Francesco Casalicchio. Ricordiamo che la chiusura dell'IPA Fermi è dovuta per carenze strutturali in quanto per la sua costruzione è stato utilizzato gemendo depotenziato. Le classi saranno così dislocate. Sette aule al geometra Bunelleschi, tre al commerciale Sciascia e cinque allo scientifico Majorana. All'appello quindi mancherebbero altre otto classi che un accordo tra provincia e comune di Agrigento prevede la collocazione presso il plesso Tortorelle dell'Istituto Comprensivo Pascoli, scuola tra l'altro di cui lo stesso presidente Eugenio Dorsi è dirigente scolastico. Per le attività pomeridiane dell'IPA sono state trovate altre 24 aule dislocate negli istituti di scuola superiore presenti incontrate a Carcarelle. Secondo il presidente della provincia regionale di Agrigento Dorsi occorrerebbero circa 12 milioni di euro per ovviare ai problemi dell'Istituto, somma di cui ovviamente l'ente provincia non dispone. Noi non ci siamo fermati un solo giorno per trovare una soluzione, non disdegnando i positivi giudizi che ci vengono forniti o le positive soluzioni che ci vengono proposte. Il problema è che qualcuno sta dimenticando che per risolvere una situazione così grave ci vuole un po' di tempo, ma ci vogliono soprattutto le cose fatte con regola e con rispetto delle leggi. Noi siamo qua, non ci siamo fermati in un solo istante, attendiamo risposte dalla regione siciliana di tutto quello che abbiamo fatto. È stato sempre avvisato il signor prefetto che sa tutto della vicenda, abbiamo avvisato pure la Procura della Repubblica, abbiamo avvisato pure la Corte dei Conti, abbiamo fatto tutto quello che era necessario nelle nostre intenzioni per poter risolvere non il problema dell'IPIA, ma io lo chiamerei il problema dei docenti, degli alunni della scuola dell'IPIA, perché qua non c'è un problema strutturale che sappiamo tutti e lo conosciamo tutti. Qua c'è un problema di educazione, di diritto alla partecipazione sociale delle attività scolastiche e soprattutto del diritto di crescere e di erudirsi culturalmente nella scuola e non nelle strade.